chi sei tu la domanda di oggi viene generalmente utilizzata in prima persona chi sono io con vera o falsa modestia come giustificazione per non fare qualcosa chi sono io per fare o dire questa cosa non ti è mai successo di farlo o pensarlo beh se è così sei in buona compagnia lo sai che anche mosè lo ha fatto mosè disse a dio chi sono io per andare dal faraone e far uscire dall'egitto i figli di israele esodo 3 11 dio non risponde direttamente a questa domanda di mosè ma replica in questo modo e dio disse va perché io sarò con te esodo 3 12 e subito dopo al versetto 14 rivela il suo nome dio disse a mosè io sono colui che sono poi disse direi così ai figli di israele l'io sono mi ha mandato da voi vorrei parafrasare la risposta di dio non importa chi pensi di essere e nemmeno se credi di non essere abbastanza capace o abbastanza forte io ti conosco ti conosco meglio di quanto tu conosca te stesso e se ti chiamo ti basta sapere chi sono io e che io sono con te perché con me di sicuro riuscirai dio sta chiedendo a mosè di spostare la sua attenzione e di non guardare alle sue mancanze ma all'onipotenza dell'eterno se dio lo chiama avrà i suoi motivi non sta facendo un errore perché dio non sbaglia e conosce la fine prima dell'inizio di ogni cosa ti senti chiamato ad una missione non focalizzarti sulle tue debolezze dio conosce i tuoi punti deboli ma anche i tuoi punti di forza e le esperienze che hai già fatto nella tua vita tutto ciò che ti manca lui te lo darà al momento opportuno nel frattempo entra nella tua chiamata sicuro che il suo aiuto non ti mancherà mai rispondi con fiducia alla chiamata l'io sono è con te grazie di esistere emmanuel go